Weekend di controlli a 360 gradi nella penisola sorrentina e sull'isola di Capri da parte dei carabinieri della compagnia di Sorrento. I militari hanno effettuato degli accertamenti a largo raggio volte ad accertare la regolarità dei servizi svolti da veicoli soggetti a licenza per il trasporto delle persone. Controlli mirati anche in mare, verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione con la motovedetta della stazione di Capri. Prima cittadina passata al setaccio Massa Lubrense, lì i carabinieri hanno sanzionato un uomo sorpreso la guida di un mini autobus da 30 posti. L'autista, che stava portando dei ragazzini tra i 13 e 14 anni in una colonia estiva, non era in possesso della patente prevista per quel genere di veicoli. Il mezzo è stato sequestrato come altri sei veicoli durante i controlli al codice della strada. Controlli anche a Capri, dove i militari hanno invece sequestrato due carrelli elettrici di proprietà di strutture ricettive che non avevano la revisione. Elevate in totale 31 sanzioni al codice della strada, certamente anche in mare, con 11 imbarcazioni controllate, 31 persone identificate e diverse contravvenzioni accertate per navigazione sotto costa. Tre, infine, le persone denunciate. Il primo è stato trovato a Vichequenza in possesso di tre coltelli a Serramanico. Il secondo denunciato a Sorrento guidava con patente falsa, mentre il terzo è stato sorpreso nelle strade di Capri alla guida ed è risultato positivo all'alcol test.